La vita in Alpeggio, una esperienza indimenticabile, la sorpresa, lo stupore per la novità di luoghi mai visti prima e poi il gusto della scoperta, la possibilità di giocare, sì, ma in maniera sana e tutti insieme. I protagonisti sono loro, i bambini, le mamme e i giovani ospiti del centro Rita Tonoli di Traona, la piccola opera appena rientrati dai due giorni trascorsi sui 2020 metri di altitudine del rifugio Mitta all'Alpe Musella in Valmalenco. Trovare attività all'aperto e in giro per i nostri territori è un'attività che viene sempre portata avanti ma in questo caso l'occasione di poter stare tutti insieme in un rifugio alpino e quindi un territorio del sociale che incontra un territorio della montagna così da vicino, così in modo profondo, è davvero un'occasione unica e irripetibile. Un progetto dal titolo Chiama la Montagna, nato nell'ambito della giornata regionale per le montagne evoluta da Regione Lombardia, è giunto al suo secondo anno. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani verso il patrimonio di risorse naturali, culturali e forestali di queste meravigliose montagne, insomma una vera scommessa con il futuro. Da un lato l'aspetto sociale e dall'altro abbiamo invece gli operatori che sono gli operatori che vivono sulla montagna e quindi valorizziamo anche il loro operato. Un'attività la loro fondamentale per il mantenimento dell'ecosistema alpino e leggere la felicità negli occhi di questi giovani ospiti e di chi qui tra le montagne opera quotidianamente, beh, tutto questo non apprezzo. La Guida Alpine è un interprete di luoghi alti, è una persona che accompagna gli escursionisti lungo i percorsi di trekking nelle vallate, è un accompagnatore degli alpinisti lungo le vette, ma è soprattutto un educatore, un mediatore culturale verso gli spazi aperti dell'alta montagna. La mia personale mission è quella di far esplorare i lati della Valtellina, specialmente dalla bassa valle dove vivo, rendere attraenti anche a turisti che solitamente sono più propensi ad andare a visitare i soliti luoghi già conosciuti. Per il gruppo una serie di attività ha lo scopo di riflettere sui valori del vivere assieme, ma anche di prendere consapevolezza di se stessi e poi esplorazioni, giochi, anche a tu per tu con gli animali in alpeggio e per gli stessi alpeggiatori un'esperienza nuova da cui imparare. Mi piace molto quest'unione dell'ambiente montano agli animali, mi metto anche un po' nei panni da turista, quando vado ai passeggi in montagna vedo l'animale del pascolo e ti sembra proprio di tornare un po' alle nostre vecchie origini. Il primo anno, sapete che è il primo anno che gestisco questo rifugio e mi dà tanta soddisfazione. Mi ha tanta soddisfazione perché c'è questo scambio con i clienti, questo volersi, voler parlare. Cioè proprio così come stiamo parlando in questo momento con voi insomma.